benvenuti in questa video guida vi mostro l'utilizzo di free video to nokia phones converter un programma gratuito e molto semplice da utilizzare che vi permette di convertire qualsiasi tipo di video in formato mp4 ottimizzarlo per i telefoni nokia una volta avviato il programma la prima cosa da fare è inserire i video che volete convertire quindi per fare questa operazione potete cliccare su sfoglia e andare a selezionare i file da convertire direttamente dai percorsi vostro computer oppure potete semplicemente trascinare i file all'interno di questo spazio bianco ad esempio io inserisco un video in formato avvi un video in formato 3gp e un video in formato frv che è il formato dei video scaricabili da youtube potete anche cambiare la sequenza dei vostri video selezionandoli usando le freccette fatto ciò andate nella sezione cartella di output e selezionate il percorso dove volete che vengano salvati i video dopo la conversione invece questo pulsante qui vi è molto utile quando dovete convertire molti video per volta e infatti questa finestra vi permette di personalizzare i nomi dei video in output per esempio in questo campo possiamo inserire un prefisso al nome nella parte qui in basso ci verrà mostrato sempre l'esempio di come verrà il nome finale del file ad esempio inserisco la voce prova e ci viene mostrata qui che comparirà sempre davanti al nome originale del file perché è selezionata quest'altra voce includi nome file originale possiamo deselezionarla e possiamo anche includere la data all'interno del file invece quest'altro campo al contrario ci permette di inserire un post fisso e cioè una voce finale al nostro file in più possiamo cambiare il carattere separatore delle varie porzioni del nome dopodiché andate a selezionare la qualità da dare ai vostri video potete scegli tra l'altra standard ed economica ricordando però che maggiore sarà la qualità video che sceglierete maggiore sarà la dimensione dei file che andrete a convertire qui invece andate a selezionare il modello del vostro Nokia ne sono tantissime voci che voi non vedete interamente se non trovate il vostro modello potete comunque informarmi sulla risoluzione che viene usata sul vostro cellulare e selezionarla tra quelle presenti il pulsante opzioni invece ci permette di selezionare questa voce che spegnerà il computer una volta finita la conversione in più potete cambiare la lingua del programma se inizialmente non vi è partito in lingua italiana e potete aggiornare il programma con questo pulsante qualora ci fossero nuovi aggiornamenti per velocità elimino questi video e lascio solo uno per mostrarvi il processo di conversione che partirà con il pulsante converti in questo caso si tratta di un video di solo 26 secondi quindi il processo è velocissimo ed è completato con successo quindi ci ritroviamo nel nostro file convertito in formato mp4 nella posizione che avevamo scelto con questo è tutto alla prossima